La parola al collega La Corazza. Grazie Presidente Mollica, grazie per aver scelto di mettere all'ordine del giorno questo punto che proverò a trattare per come l'ho inteso io, avendo un po' di imbarazzo, lo dico ai colleghi dei 5 Stelle, il collega Perrigo e il collega Leggeri, perché la formula con la quale si è rivolto anche legittimamente giustamente al governo regionale è una formula da interrogazione che avrebbe potuto mettere nelle condizioni il governo regionale di rispondere puntualmente alle questioni sollevate. Io mi sarei ovviamente aspettato nella richiesta straordinaria di convocazione del Consiglio regionale una preparazione, essendo stato io coloro che insieme a voi ha unito la mia firma a voi, ad una preparazione nella istruttoria di questo Consiglio regionale che avrebbe potuto mettere nelle condizioni il governo regionale e noi tutti di ragionare e discutere su un evento molto rilevante che ha attraversato il dibattito politico e istituzionale della nostra regione, le tensioni, le ansie di lavoratori, di cittadini rispetto al tema del lavoro e rispetto dell'ambiente che avrebbe potuto mettere le condizioni a punto tutti di poter ragionare su questo. Allora mi sono interrogato se questa nostra discussione partiva in realtà da una mozione che il Consiglio regionale approvò il 10 di maggio. Voi ricorderete che in quella mozione che gentilmente, garbatamente, il Presidente Mollica mise subito all'ordine del giorno, quella mozione che chiedeva, ci tornerò su questo aspetto, di convocare un tavolo dopo 40 giorni di chiusura del centro Oli per effetto della decisione dell'autorità giudiziaria. Devo dire sempre, collega Perrino, che quel voto fu all'unanimità e tra i due non votanti c'era sia il collega Leggeri che il collega Perrino. Lo dico perché noi dobbiamo essere in realtà tutti disponibili ad un confronto, tutti disponibili al fatto che quando c'è la necessità di convocare un Consiglio straordinario proviamo a comprendere che nessuno dall'una o dall'altra parte vuole chiudere spazi di dibattito di confronto perché siamo tutti disponibili a capire, a chiarire e a dare ovviamente indicazioni. Da questo punto di vista io suggerirei due questioni, poi entrerò nel merito ovviamente dei ragionamenti che mi pare utile fornire sia dal punto di vista politico che dal punto di vista di merito a questo Consiglio regionale. Il primo tema è la necessità di convocare in maniera immediata, lo dico al Vicepresidente Franconi, agli assessori, in maniera immediata il tavolo della trasparenza. Vanno convocate le parti sociali, gli enti locali, c'è una ripartenza di un centro Oli che è stato vissuto nel dibattito politico-istituzionale anche per effetto delle decisioni dell'autorità giudiziaria in maniera complessa e complicata io penso che il tavolo della trasparenza vada convocato nelle prossime giorni, prima possibile. Poi aggiungo, sarebbe opportuno probabilmente mantenere una costante informazione o nel Consiglio o nelle commissioni consigliari competenti con chi sta seguendo, Presidente Pittella o gli assessori, parallelamente seguire questo percorso di riavvio di ripartenza del centro Oli, sia sul piano ambientale che sul piano occupazionale. Anche perché io credo che questo ci sia stato chiesto dalla maggioranza del popolo lucano nel referendum del 17 di aprile e guardate in quel referendum io insisto, non c'è solo una richiesta di notrib. C'è una richiesta di trasparenza, di dignità, di rispetto per la nostra istituzione e per il nostro popolo. D'altra parte il Presidente Mollica ricorderà che quando ho presentato i dati su IPR e marketing, da una parte c'era una opinione larga della funzione e del ruolo delle regioni decadenti, ma dall'altra invece c'era una forte spinta soprattutto generazionale a chiedere alla regione di essere difesa nella relazione con lo Stato in materia energetica e in particolare petrolifera. Io credo che noi dobbiamo saper raccogliere questa indicazione così come è stato fatto e lo dico anche perché io ricordo il dibattito di quei giorni, ricordo che in quei 40 giorni, dichiarazioni di autorevoli dirigenti del Neni, nessuna soluzione tecnica era possibile per far ripartire il Cova. Siamo ad un'altra storia e noi per 40 giorni dobbiamo, secondo me, fare un mea culpa. In quei 40 giorni fino alla mozione del 10 maggio noi non abbiamo convocato un tavolo tecnico. Io ricordo che l'assessore Berlingueri mi rispose ma c'è uno scambio epistolare. No, c'è una grande crisi industriale con un grande fatto che è accaduto, si convocano le parti e si capisce come far ripartire. Alcuni di noi, c'è un video pubblicato, dissero in quella circostanza che non siamo tecnici, non siamo ingegneri, ma non credo che una grande società come Eni non immagini una possibilità diversa, meno impattante forse, per far ripartire il centro olio. E allora, prima di arrivare alla fine, io diciamo di riavvolgere il nastro, a me pare rilevante, assessore Pietrantuono, assessore Franconi, assessore Braia, presidente Mollica, mi pare rilevante invece che insieme al presidente Pittella, in un prossimo consiglio, discutiamo e ragioniamo insieme, quindi nessuna prima genitura ci deve essere. Ma da allora ad oggi si è aggiunto qualcosa in più, si sono aggiunte le dichiarazioni di descalzi, trasparenza e investimenti. Io pongo alcune questioni. Sembrerebbe non sufficiente l'attuale impianto del centro oli per arrivare all'obiettivo dei 104.000 barili del 99. Allora qui chiedo a questo consiglio che ha discusso, ha ragionato per molti anni, ma com'era possibile che si stava per firmare un memorandum che avrebbe portato ad una produzione di 130.000 barili quando quell'impianto, forse qualcuno sapeva, non sarebbe stato sufficiente ad arrivare a 104? Sapete perché lo chiedo? Voglio che questa cosa rimanga agli atti, c'è una mozione di cui discuteremo prossimamente. Perché io continuo a pensare, al di là delle posizioni di ciascuno, che questa vicenda lucana, questa vicenda petrolifera sia molto connessa al referendum costituzionale? Perché sottoscrivere un memorandum e dare una disponibilità a 130.000 barili quando, anche con la quinta linea che è stata costruita, non si riesce a saturare quell'accordo del 99 rispetto a 104.000 barili? Io lo voglio ricordare a tutti, al di là delle opinioni che ciascuno di noi avrà, sarà competenza esclusiva dello Stato l'energia, sarà competenza esclusiva dello Stato il governo del territorio e con lo sblocca Italia l'ambiente che era già materia esclusiva dello Stato è stato ripreso nelle mani dello Stato, anche quello. Io credo che questa riflessione vada fatta, al di là delle posizioni politiche, dello schieramento politico, perché queste dichiarazioni di Tescalzi mi hanno fatto molto riflettere, mi hanno fatto molto riflettere perché noi già abbiamo visto cosa è accaduto con lo sblocca Italia, abbiamo già visto, noi abbiamo dovuto far fare marcia indietro al governo facendogli diciamo modificare alcune norme per iniziativa lodevole delle regioni con capofila della regione basilicata facendo fare passi indietro. Allora io mi interrogo alla luce di questo dibattito costituzionale che si è messo nel nostro paese, cosa significano le dichiarazioni di Tescalzi? Io vorrò capire al di là, al di là del chi voterà sì o no o chi mi sceglierà di non votare, voglio capire se c'è un nesso in queste ore e in questi giorni di questa dichiarazione con un dibattito molto delicato che si è aperto nel nostro paese. Tra cambiamento e conservazione c'è anche il destino del popolo lucano. E allora prima ancora, e vado verso le conclusioni, di ragionare su le dichiarazioni, le posizioni che peraltro il presidente Pittella, non so chi c'era, c'era il collega Robortella a Billadagri in un'assemblea in cui si annunciava la ripartenza del Cova, il presidente Pittella disse che aveva incontrato Tescalzi. Addirittura i giornali hanno titolato, ci sono alcuni giornalisti che Tescalzi avrebbe annunciato investimenti per 3-4 miliardi di euro. Io mi interrogo per esempio, questi miliardi di euro, 104 mila barili, sono tutti all'interno del recinto del centro Oli? Oppure si immagina un ampliamento con un nuovo accordo? Ma prima di arrivare a questo accordo, capiremo, ragioneremo, è giusto che Tescalzi giri le carte alla regione Basilicata e al governo regionale. Prima di arrivare a questo accordo noi abbiamo bisogno di chiudere tre fratture complesse, le dico velocemente. Prima, c'è la vicenda ambientale, lo dico all'assessore Pietrantuono, ho letto le sue dichiarazioni, apprezzo lo sforzo che sta facendo, domani sarà una decisione in commissione, non mi dilungo, sono questioni che sono dentro, interrogazioni, continueremo a ragionare, non voglio rubarvi altro tempo. Tuttavia c'è ancora una frattura, una ferita ambientale aperta nella nostra regione e in quel territorio. Due, ci sono collegamenti molto stretti e molto diretti con la vicenda lavoro, come facciamo a raccontare su questo tema a operai con un contratto di sito, lo sottolineo che andrà rivisto, sindacati, imprese, andrà rivisto a 800-900 euro nette al mese. Vorrei che fosse chiaro, il contratto di sito è uno strumento, un vestito che abbiamo provato a dare con diverse opinioni anche in quella circostanza per far rispettare le nostre imprese e i nostri lavoratori. L'idea che si possano sospendere i contratti per 24 ore e poi rimodularli abbassando di molto gli importi netti in quelle buste paga, io credo non sia giusto e non sia corretto. E se non si ricompone una frattura ambientale, una frattura nel rapporto con le imprese, con ribassi eccessivi che si scaricano sul mondo del lavoro e se non si ricompone una frattura con quel mondo del lavoro, Presidente Mollica, sarà difficile governare processi industriali complessi? Possono anche venirci a dire che ci serve rafforzare il centro oli perché dobbiamo arrivare a 104 mila barili come l'accordo del 99, ma in questa condizione culturale, sociale ed economica o noi siamo in condizione di governare veramente questo processo? Oppure sarà difficile? Alcuni lavoratori chiedono il contratto sull'energia, come si regola l'intotto nel rapporto con Eni? Terza questione e chiudo. Come si regola il rapporto tra regione e quel territorio? Noi abbiamo discusso, mi ha risposto l'assessore Franconi a quella interrogazione, insistendo a ogni mia sollecitazione che su quel capitolo della legge 40 che è obbligatoria a prescindere, avrebbe detto Totò, cioè risorse vanno appostate in quella legge 40 su programmi pluriannali, l'assessore Franconi mi rispose che non ci sono soldi in bilancio, abbiamo infrastrutture che per 30-40 mila euro per indagini geologiche non vanno a progettazione definitiva e non vanno a gara. Allora c'è un tema che riguarda il Pio Baldagri, cioè che riguarda le risorse che entrano nella regione Basilicata e una quota di risorse deve essere calata per investimenti in quel territorio. Se noi non ragioniamo in questa cornice politica, lo dico al collega per Rino, al di là delle diverse posizioni e non eleviamo la nostra dialettica e il nostro pluralismo politico a difesa di una istituzione, degli interessi ambientali e dello sviluppo di questa regione, io credo che noi non riusciremo a fare uno sforzo nell'interesse di tutti. Allora io avevo pensato, almeno era la mia idea, che questo Consiglio regionale potesse in realtà partire dalle dichiarazioni di Descalzi, capire fino in fondo con la Giunta e con il Presidente Pittella in quale direzione stiamo andando. Io credo che non sia un caso che queste dichiarazioni siano alla vigilia di un referendum costituzionale, lo dico perché è una riflessione che saremo chiamati a fare nell'interesse della nostra regione, poi il Paese si dividerà tra grandi rottamatori, grandi innovatori o conservatori che avrebbero potuto fare e non hanno fatto, ma io credo dovremmo valutare fino in fondo, al di là delle casacche politiche, quale sarà in ogni condizione e in ogni circostanza il miglior approccio per difendere il nostro territorio, evitando anche qualche idea di smembramento, la nostra regione e ovviamente provare a dare risposte di tutela alla salute ma anche opportunità di lavoro.